il festival di sherwood come anche marghera il centro sociale rivolta per me sono punti cardine di ogni tour li devo fare per forza se no è un casino e quindi sono contento di tornare a sherwood vi invito tutti ad andare a vedere non solo la data in cui ci sarò io ma tutte le date di questo festival ormai storico italiano non per la politica dovete odiarmi